we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nel video di oggi tante novità sul futuro di fortnite vedremo la nuova cash cap faremo un tuffo nei ricordi parleremo di alcuni argomenti e non mancheremo anche di menzionare san patrizio volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica del mio video delle 13 30 ma nel video di oggi andiamo a parlare anche di molti moltissimi leaks perché sono state trovate delle modifiche fatte proprio nelle ultime ore nei file di gioco e ve li voglio far vedere ma prima comunque la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto nel video domanda di oggi molto molto curiosa ma qual è la tua versione preferita di pesce secco dai una skin che oramai è entrata nei cuori di tutti su fortnite ne abbiamo viste un sacco di varianti pirata spaziale ghiacciato normale la mia sinceramente non vogliatemene ma è quella che sta per arrivare il pesce secco e gente segreto è davvero tanta tanta roba tra l'altro vi ricordo è un bundle da 9,99 che arriverà prestissimo dimmi qual è la tua preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bundle alle ciance andiamo subito ragazzi a fare un grande salto nei ricordi sì perché ieri si sono festeggiati i due anni da uno degli eventi più importanti della piattaforma di twitch e di fortnite stesso sto parlando della partita o meglio delle partite in cui ninja giocò insieme in squad a drake turvis xx e team juju voglio un attimo farvi fare insieme a me un salto nei ricordi io sono stati non beh ragazzi non è poi passato così tanto ma fortnite sembra veramente indietro nel tempo di tantissimo ricordo in quell'evento che twitch ottenne un guinness dei primati più di 250 mila persone guardarono appunto questo team insieme a questi grandi personaggi pubblici beh che dire in questi giorni se non come dire se non la pensate come me fortnite sta vivendo un periodo di grafica incredibile la mappa è perfetta la grafica eccezionale anche con la bassa risoluzione ne vediamo veramente delle belle e addirittura al massimo gli effetti speciali e gli effetti proprio di ambiente sono tanta roba comunque i ricordi non possono che mancare in realtà c'è un altro compleanno ragazzi che vogliamo festeggiare insieme sì perché sempre il 15 marzo quindi ieri due anni fa uscì finalmente per tutti i dispositivi android e mobile in generale fortnite quindi ragazzi tanta tanta roba perché ricordo ancora in quanto lo si aspettava per chi non aveva né una console né un computer e insomma il tempo vola noi continuiamo a giocare speriamo sempre di avere e di dare il massimo in questo bellissimo battle royale ma andando avanti ragazzi ecco qua un'altra notizia molto interessante ieri sono uscite due skin insieme a piccone e backpack di san patrizio un nuovo set che va appunto a richiamare il colore verde di questa festività una cosa però molto particolare è che qualche tempo fa fu spoilerato direttamente da fortnite per una manciata di minuti in creativa un'isola che come vedete mostra una skin che tuttora non si sa che skin sia non si hanno notizie non è presente nei file di gioco potrebbe essere una delle skin che arriverà in questi giorni per san patrizio non lo so però è davvero molto molto bella praticamente lo abbiamo capito tutti è la versione maschile del sergente trifoglio una curiosità davvero molto molto particolare speriamo di vederla prestissimo in game perché a me sinceramente piace un sacco e andando avanti ragazzi abbiamo anche delle novità di alcune domande che sono state aggiunte direttamente nei file di gioco che cosa sono queste domande sono quelle che vi appaiono ogni tanto a random mentre siete in lobby una di queste ci chiede cosa nei tuoi giochi secondo te qual è la chance di trovare le linee di prossimità e noi possiamo votare da 1 a 5 1 è molto basso 3 è ok 5 è molto alto probabilmente vedrete questa domanda in game che chiederà appunto il vostro parere una seconda domanda invece è che cosa ne pensi di nuove delle nuove location l'agenzia il pozzo la grotta lo yacht e lo squalo anche qua con una scala da 1 a 5 dove 1 è brutto e 5 è bellissimo dovrete votare le vostre come vi sembrano le 5 location e per terminare l'ultima domanda aggiunta è cosa ne pensi dei pelibapesce 1 vuol dire poco utili 3 vuol dire vanno bene 5 troppo forti personalmente io reputo che i pelibapesci stanno perfetti non c'è proprio questa grande chance di trovarli e poi sono più una volta che ce li hai perché ti prendi 50 in un secondo e spicci quindi tanta tanta roba ma andando avanti ragazzi volevo farvi vedere prima di andare avanti un altro spezzone molto interessante sì perché si parla anche del battle pass annuale un utente ha avuto un bug e guardate un pochettino che caspita ha trovato e che caspita gli è successo come vedete ragazzi è davvero incredibile perché ready for battle leggete in alto a sinistra you got the 2020 annual pass hai preso il pass del 2020 e come vedete ci sono un sacco di skin epiche che vengono date insieme alla versione una variante del bombarolo lucente che in realtà ancora non è uscito si è parlato molto di questo pass battaglia soprattutto all'inizio di questo capitolo di fortnite ora io non so se e quando verrà messo anche perché ormai siamo a metà marzo del 2020 quindi non ha molto senso però questo bug è apparso ad un ragazzo una curiosità in più che ci tenevo a farvi vedere e prima di salutarci ragazzi la cash cap sì e sarà in solo quindi un bel metodo per portarsi a casa un bel po di cash gratis ogni mercoledì ragazzi dovremmo affrontare delle partite credo che sia un totale di 10 partite dove i migliori verranno subito premiati con denaro abbiamo le tre immagini che vanno a indicarci la cash cap nelle varie piattaforme partendo dalla prima che sarà per switch e mobile dalla seconda che sarà per xbox e playstation fino a passare all'ultima che sarà per il pc e tra l'altro oltre alla cash cap non si hanno ancora notizie ufficiali almeno a quanto ne so adesso abbiamo anche una nuova notizia che è la contender cash cap invece sarà ogni giovedì dove la descrizione dice prove yourself each week quindi mettiti alla prova ogni settimana premi in denaro saranno distribuiti ai top ranked players insomma ragazzi tanta tanta roba sta per arrivare su fortnite tutti ovviamente aspettiamo la patch ma anche un po di cash cap non ci farebbe assolutamente schifo e insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche il video news di oggi mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao